Salve a tutti, in questo video continuiamo il discorso aperto nel video numero 16 ovvero per quando riguarda la creazione di circuiti di driving per MOSFET con l'analisi di questo circuito che risulta essere la fusione dei due circuiti visti in precedenza. Infatti ho cercato di unire i vantaggi dell'uno e i vantaggi dell'altro in modo da poter ottenere qualcosa di meglio. In questo circuito ho inserito sia lo stadio finale push-pull con i due transistor NPN e PNP e sia lo stadio invertende, due stadi invertendi che erano presenti nel circuito con l'integrato NE555. Ho dovuto mettere due stadi invertendi perché se ne avessi utilizzato solo uno quello che sarebbe successo è che l'auto sarebbe stato in controfase con l'input quindi è necessario metterne due in modo che meno per meno fa più e quindi l'output torna in fase con l'input. Inoltre grazie a questo sistema risolviamo il problema della tensione di uscita che è limitata alla tensione di input. Infatti essendo questo nodo riferito alla tensione di alimentazione del driver l'output sarà quasi uguale alla tensione di alimentazione. Per poter utilizzare questo circuito è necessario fare un piccolo dimensionamento di questa resistenza, infatti questa è la resistenza che comanda la corrente in uscita al driver però questa resistenza viene anche cortocircuitata a massa quando questo mosso si accende. Quindi come nel caso precedente il vantaggio è che noi possiamo dimensionare il circuito con una sola resistenza però dobbiamo porre come sempre due condizioni affinché il circuito sia stabile e i componenti non si rompano. Ovvero, supponendo di avere un duty dello 0%, quello che succede è che questa resistenza risulta essere costantemente collegata a massa. Quindi dobbiamo garantire che la potenza dissipata, essendo una resistenza da un quarto di Watt, sia inferiore appunto a 0,25 Watt. Quindi dobbiamo garantire che il valore di questa resistenza sia superiore a quattro volte la tensione di driver al quadrato. Inoltre, per quanto riguarda la corrente di output, come abbiamo visto nel circuito precedente, questa è uguale alla corrente di input per il guadagno massimo in corrente, dove la corrente di input a sua volta è uguale alla corrente di, alla tensione di driver, meno la tensione VBE di questo diodo del transistor diviso R. Quindi andando a sostituire, otteniamo che la corrente di output sarà uguale a questa equazione. Ovviamente, essendo la corrente di output limitata dal valore massimo che può supportare il transistor che si ottiene tramite lettura del datasheet, otteniamo che questa resistenza può avere un valore minimo pari al valore che esce fuori da questa formula. Quindi una volta calcolate queste due R, quella che risulterà essere di valore maggiore dovrà essere presa come riferimento inferiore in quando risulta quella più critica e quindi tutte le resistenze dovranno essere maggiori di quella calcolata. Come detto in precedenza, quindi il vandaggio di questo circuito è che la tensione di output sarà uguale alla tensione di alimentazione meno la VCE, ovvero la tensione di saturazione del transistor, in questo caso riferito all'NPN superiore. Quindi diciamo che può essere considerata circa uguale alla tensione di alimentazione. Lo svantaggio invece è che, come si può ben vedere, ci sono parecchi componenti nel circuito e quindi questo è uno svantaggio perché è ovvio che aumentare il numero di componenti non è mai una cosa buona. Come nello scorso video adesso andrò a montare i componenti su una breadboard. Nello specifico userò per i due MOS a canale N il part number 2N7000 mentre per il transistor NPN userò un BC547 mentre per il PNP userò un BC558. Quindi adesso li vado a montare e poi ci rivediamo direttamente per la fase di test. Ho montato il circuito sulla breadboard e sto già facendo le prime prove ed è incredibile perché la forma d'onda gialla è il segnale in ingresso mentre la forma d'onda blu è il segnale in uscita. Ha un tempo di salita più veloce del segnale di ingresso, almeno in carico aperto. Poi andremo a vedere quando alimenta il gate del MOS ma fino a questo momento è un ottimo risultato. Adesso prendo le misure e poi ci rivediamo con la tabella finale tutta compilata. Ho effettuato le misure del T-Rise e T-Fall sia in carico aperto che sottocarico con un MOS IRFZ44N e questi sono i risultati. Abbiamo ottenuto che questo circuito di driver può in carico aperto gestire fino a una frequenza di 2 MHz mentre sottocarico con questo MOS specifico può arrivare addirittura alla frequenza di 360 kHz. Quindi è un bel upgrade rispetto al circuito che abbiamo analizzato in precedenza e soprattutto siamo riusciti anche a risolvere il problema della tensione di uscita che è superiore a quella di input, quindi uguale alla tensione di alimentazione. Le prestazioni di questo circuito possono essere ulteriormente migliorate soprattutto per quando riguarda la fase di carico andando a cambiare gli attivi ovvero i due transistor. Infatti come nel caso del circuito precedente credo che andando a utilizzare transistor più veloci e che riescano a portare più corrente questi tempi possono essere ulteriormente ridotti. Nello specifico consiglio di utilizzare come part number dell'NPN il 2N2222A mentre come part number del PNP il 2N2907A che hanno prestazioni certamente migliori, almeno leggendo il datasheet, dei due transistor che ho utilizzato attualmente. Quindi il circuito di driving funziona perfettamente, molto meglio rispetto ai primi due che abbiamo visto nello scorso video e nulla, a parte l'unico problema del numero dei componenti che è abbastanza elevati, questo circuito risulta essere ottimo per il pilotaggio di MOSFET fino alla frequenza, almeno con questi componenti, di 360 kHz. Bene, per questo video quindi è tutto, alla prossima!